Ma perché ficcarci gli enigmi in Diablo? Diablo è un gran bel gioco, a tratti è difficile, a tratti è frustrante, va bene, ma perché metterci gli enigmi? Non andava già bene tutto quanto così com'era, devi livellare, devi crearti il personaggio, devi crearti una tua build perfetta perché altrimenti non fai danni? E no, ci vogliono gli enigmi. Tu arrivi bello bello nel tuo dungeonino e ci trovi lui. Un puzzle 3x3 con le torce che ti spezza il ritmo del gioco. Perché ricordiamocelo, tu sei entrato lì dentro sperando di trovare un numero smisurato di nemici da battere e un bellissimo tesoro. E invece no, ecco a te un magnifico enigma che in un gioco come Diablo lega tanto quanto l'acqua nel vino. Spoiler, sacrilegio mettere l'acqua nel vino, capito? Quindi se anche tu come me sei pigro come un bradipo e non hai voglia minimamente di perdere tempo a capire come si accendono quelle torce per farle funzionare, ho una soluzione. Apri Google e scrivi DDO Veil Puzzle Solve. C'è anche l'app che però sfortunatamente non va bene con la mia versione di Android installata sul Motorola Edge 40 Pro. Che se non ricordo male è l'ultima quindi probabilmente aggiorneranno l'app a giorni. Che tecnologia devi imparare ad usare per risolvere il puzzle? Niente, questo sito è molto semplice. Sostanzialmente scegliamo la dimensione del puzzle che nel nostro caso è un 3x3. Con New Game andiamo a mescolare a caso le posizioni. Se invece vogliamo selezionare noi la posizione della torcia accesa basta fare Edit e andare a selezionare quali torce nel nostro schema sono accese. Una volta che avremo selezionato le torce accese facciamo Solve e qua abbiamo la soluzione per avere tutte le torce accese. Questo lato che vedete in alto è quello nell'isometrico in alto a destra. Quindi ora puoi tirartela con gli amici. Io ho risolto i puzzle in un nanosecondo. E non è la sola cosa che so fare in un nanosecondo. Oh no, no, non era così. No, non dirlo questo. E a te piacciono i puzzle all'interno di Diablo 4? Perché non sono solo questi. Vabbè, nel mentre iscriviti anche al canale Tech. Ciao. Ciao. Ciao.